radio del bus domani in piazza ferretto a mestre la il corteo in memoria delle 21 vittime oggi dall'obitorio sono partite per la cremazione le altre cinque vittime ucraine tre adulti e due bimbe intanto un nuovo esposto presentato in procura venezia da parte dell'associazione italiana familiari vittime della strada chiede che venga fatta chiarezza sulle condizioni del guardrail e se la rottura fosse a norma il sindaco brugnaro ha incontrato in municipio a mestre i te tra i primi a prestare soccorso la sera dell'incidente sul cavalcavia hanno dimostrato cos'è l'animo umano ha detto la strage di santo stefano di cadore procura eris hanno ricostruito la scena dell'incidente in cui impersero la vita papà figlioletto e nonna di favaro veneto alla guida dell'auto la 33 n tedesca angelica utter un motoscafo ctv diretto a piazzale roma si è scantato contro il ponte delle guglie il rio canareggio dal sopralluogo non è emerso alcun danno strutturale con lo scopio del conflitto in israele il ghetto di venezia sorvegliato speciale come disposto dal prefetto intanto da tel aviv previsto il rientro a ore di due veneziani il 18 ottobre le spoglie di giuseppe sarto torneranno a venezia la città nella quale è stato patriarca prima di diventare papa pio decimo siamo andati nella basilica della salute per vedere come procedono i preparativi buonasera ben ritrovati con l'edizione di venezia dei nostri telegiornali in primo piano ancora la strage del bus domani in piazza ferretto a mestre il corteo in memoria delle 21 vittime e da oggi dall'obitorio di mestre sono partite per la cremazione le altre cinque vittime ucraine ore 8 del mattino abitorio di mestre nel corteo verso spinea delle cinque auto grigie le salme delle altrettante vittime ucraine dell'incidente del bus una per ogni auto i corpi verranno cremati mercoledì 11 su indicazione delle famiglie e poi le ceneri saranno riconsegnate per il rientro in patria si tratta di tre adulti vasil lomachin con i conigi sergei e tatiana beskorvaini e delle due bambine anastasia morozova e daria lomachina che erano rifugiati dall'anno scorso in croazia plizvice per le altre quattro vittime ucraine ci sono le tre amiche trentenni irina paschenko julia niemova e lubov shiskarovia insieme a dimitro sierov la riconsegna programmata sempre per mercoledì 11 dal fronte feriti una buona notizia di vada mestre dove in continuo miglioramento la situazione del paziente creino di 39 anni che presto lascerà la struttura ospedaliera e da dolo dove ha lasciato la terapia intensiva la giovane paziente francese di 21 anni la situazione è in via di miglioramento abbiamo avuto la grande soddisfazione di poter dimettere nei giorni scorsi uno dei feriti e nelle prossime ore ci sarà la dimissione di un altro scende anche da tre a due il numero di feriti in condizioni giudicate critiche poiché una giovane tedesca di 27 anni in cura sempre all'ospedale di mestre e oggi in una situazione definita stabile questo ci lascia ben sperare anche per tutti gli altri che oggi stanno ancora soffrendo o nei reparti o ancora peggio nelle terapie intensive e domani dalle 18 mestre il ritrovo organizzato via social in piazza ferretto di cittadini giunti da ogni parte del veneto e anche da fuori regione per il corteo in memoria delle 21 vittime che si dirigerà a piedi fino al luogo della strage ai piedi del sottopasso di rampa rizzardi a marghera e da qui verso la stazione dei treni per i due minuti di silenzio con blocco momentaneo del traffico viario per chiedere verità e responsabilità su quanto accaduto e sull'incidente un nuovo esposto è stato presentato in procura dall'associazione vittime della strada vogliamo che ci sia un approfondimento nell'accertamento delle responsabilità l'associazione italiana familiari vittime della strada ha presentato un esposto contro ignoti alla procura di venezia sulla strage del cavalcavia di mestre la presidente nazionale giuseppe cassaniti mastroieni ha depositato l'esposto attraverso l'avvocato padovano davis ceccato la richiesta è che un perito dell'associazione prenda parte a tutti gli accertamenti tecnici che verranno disposti per far chiarezza sulle cause della strage costata la vita a 21 persone la motivazione per cui noi abbiamo fatto questo ricorso è che la finalità dell'associazione è fermare la strage stradale e tuttavia registriamo la continuità della strage e questa cosa non ci convince e allora noi riteniamo che si debbano le esigenze delle vittime e fermare la strage e quindi di questo vogliamo di questa continuità della strage noi vogliamo coinvolgere la giustizia abbiamo fatto un esposto perché è bene che si facciano gli accertamenti adeguati in maniera tale che si perventa alla definizione delle cause della strage e quindi definire che cosa le istituzioni devono fare che anche le persone perché queste cause vengono neutralizzate non ci siano più perché non è giusto è incivile uccidere le persone sulle strade delle nostre città quanto accaduto sul cavalcavia di mestre deve essere un monito forte alle istituzioni per porre fine le morti sulla strada l'associazione italiana familiari vittime della strada chiede che venga fatta chiarezza soprattutto sulle condizioni del guarda rail sulla presenza o meno di un varco e se fosse a norma e poi sulle condizioni del mezzo la strada il veicolo e la persona tutte e tre non possiamo focalizzarci soltanto sulla persona ma dobbiamo dire la situazione è questa dobbiamo partire da una da una base di verità bisogna fare verità sulle cose e non sempre l'abbiamo riscontrato queste nelle istituzioni e quindi siccome la finalità della nostra associazione è fermare la strage stradale noi non avremo pace fino a quando questo obiettivo non si realizza l'obiettivo nostro è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro questa mattina ha incontrato in municipio a Mestre i tre stranieri primi ad intervenire in soccorso la sera dell'incidente. Oggi ho incontrato i signori Ereneden, Bucay e Toure, i tre primi soccorritori che sono intervenuti per salvare vite umane ma soprattutto che hanno dimostrato cos'è l'animo umano, hanno dimostrato che la solidarietà non si pronuncia soltanto a parole ma con fatti concreti. A loro il nostro ringraziamento, il mio personale ma di tutta la nostra città per il grande atto di coraggio e di grande umanità che hanno dimostrato. A una settimana dalla tragedia del bus il sindaco incontrato nel municipio di Mestre i tre cittadini che senza alcuna esitazione sono giunti tempestivamente sul posto contribuendo a salvare delle vite in quell'inferno. Dopo aver estratto dalle lamiere quattro persone tra cui una bambina sono rimasti ad affiancare i primi vigili del fuoco giunti sul posto. Io penso di poter dire a nomi di tutti che questo è il vero esempio di integrazione, lavoreremo proprio perché questo gesto di coraggio e di altruismo per raccontarlo ai bambini perché non ci siano le differenze tra le persone ma le differenze siano tra le azioni e i gesti che le persone fanno. Ancora grazie ragazzi, grazie di cuore. Alla luce di questo i consiglieri comunali di opposizione del Partito Democratico, hanno depositato una mozione per chiedere al sindaco e alla giunta di avviare un percorso istituzionale e gli atti necessari per poter riconoscere ai suoi due soccorritori lo status di cittadini italiani e la cittadinanza onoraria della città di Venezia. Il conflitto in Israele ora stanno rientrando a casa i due sandonatesi bloccati da giorni a Tel Aviv mentre a Venezia il ghetto ebraico continua ad essere sorvegliato speciale. giovedì sera dalle 18 a Venezia la manifestazione organizzata dai giovani palestinesi d'Italia. Con Israele sotto attacco il ghetto di Venezia sorvegliato speciale, rafforzati i controlli, aumentata la vigilanza con i varchi delle forze dell'ordine in entrata e in uscita come disposto dal prefetto di Venezia Michele Di Bari. E tra gli italiani bloccati a Tel Aviv stanno facendo il ritorno a casa due amici veneziani dipendenti di Veritas da quattro giorni sotto le bombe di Hamas. Alberto Montagnier, 45 anni, di Sandona di Piave e Gianluca Pasqual, 57 anni, di Jesolo. Le abbiamo raggiunti poco fa al telefono, proprio pochi istanti prima dell'imbarco, stanchi e estremati ma felici di tornare a casa. Il rientro è previsto in serata e proprio in queste ore, a pratica di mare, grazie a un volo militare con un Boeing messo a disposizione dalla Farnesina, grazie all'aeronautica militare italiana. La strage di Santo Stefano di Cadore lo scorso luglio. Questa mattina Procura Eris hanno ricostruito la scena dell'incidente nella quale persero la vita Marco Antoniello, il piccolo Mattia e la nonna del piccino Maria Grazia Zuin. Tutti di Favaro Veneto. L'auto lanciata ad una velocità stimata a circa 40 chilometri oltre il limite consentito di 50, in via Udina a Santo Stefano di Cadore attorno alle 11.30 va in scena la simulazione dell'incidente richiesta dalla Procura con il supporto dei Eris, nel quale il 6 luglio scorso persero la vita Marco Antoniello con il figlio di appena due anni Mattia e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Un esperimento giudiziale, precisa il capo della Procura di Belluno. Abbiamo cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente nella prospettiva della indagata, e cioè quello che ha visto lei dall'interno dell'autovettura, perché abbiamo registrato tutto sia dall'interno che dall'esterno. Un esperimento che deve dare una risposta relativa alla circostanza causa dell'incidente in mancanza di riscontri oggettivi alla luce del fatto che l'automobilista, la 33enne tedesca Angelica Uther, continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Noi stiamo cercando di fare tutte le attività che consentano di ricostruire con la massima certezza possibile quello che è avvenuto. E poi è chiaro che un contributo che dovesse venire dall'indagata sarebbe auspicabile che ci dicesse quello che le è successo, che cosa è avvenuto prima dell'investimento, se c'è una qualche ragione particolare. Ecco, questo però, lei come voi sapete l'indagata ha la facoltà di non rispondere e di questa si avvalsa fino adesso la Uther. Uther che resta nel carcere veneziano della Giudecca. Se non procediamo di fase, afferma il procuratore Luca, sarà necessario scarcerarla per scadenza dei termini. A Santo Stefano stamattina hanno assistito all'esperimento giudiziale anche l'avvocato Giuseppe Triolo, difensore dell'indagata, e il consulente di parte Mario Piacenti dello studio 3A che fornisce assistenza legale ai familiari delle vittime. Da parte di entrambi un rilievo alla procura che ha secretato il fascicolo d'indagine. Non siamo a conoscenza evidentemente di quello che sta facendo la procura e stiamo anche oggi, insomma, ovviamente partecipiamo per essere presenti, però non sappiamo le motivazioni che hanno indotto la procura a effettuare un esperimento giudiziale. Al momento siamo ancora in attesa che poi il pubblico ministero consenta l'accesso agli atti, dopodiché noi potremo svolgere tutte le attività di indagini difensive a favore della famiglia. Quindi lei conferma che in questo momento la procura ha secretato gli atti? In questo momento sì. E poi c'è la storia di Angelica Hutter, chiusa in un silenzio impenetrabile da quattro mesi. È indubbio in un periodo molto brutto e scuro della sua vita e chiaramente fa difficoltà anche solo a ricordare evidentemente tutta questa situazione e ricostruzione del sinistro. Ed ancora cronaca, attimi di paura questa mattina a Venezia dopo che un vaporetto ha urtato l'arcata del Ponte delle Guglie. Un motoscafo CTV proveniente da Trearchi e diretto a Piazzale Roma si è schiantato contro il Ponte delle Guglie lungo il rio di Canareggio stamani, poco dopo le 11. Lo scontro non ha provocato feriti, ma sul posto è stato comunque necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo con i tecnici della Direzione Lavori Pubblici del Comune e gli agenti della Polizia Locale. A seguito delle verifiche non sono stati rilevati problemi strutturali al manufatto che ha riportato solo i segni del contatto della cabina del Mezzo Acque o con i mattoni della volta. Al vaglio del Comune le immagini registrate dalle telecamere per capire se l'incidente possa essere stato provocato da un errore di manovra o se ci possano essere altre cause all'origine. Il ponte comunque è rimasto regolarmente aperto. Fermiamo ora per qualche istante di pubblicità lì nella regia. Ci rivediamo tra pochissimo. Restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta edizione di Venezia dei nostri TG. Proseguiamo con la cronaca con un'importante operazione dei carabinieri che ha portato al sequestro di armi e droga in autostrada nei pressi del casello di Martellago Scorzè. Sequestro di droghe e munizioni all'imbocco del casello del passante di Martellago Scorzè operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia hanno fermato l'uomo alla guida di un furgone martedì scorso i militari insospettiti dalle manovre frettolose dell'autista nel dirigersi verso l'imbocco del passante. A lato del controllo il conducente, che non ha opposto alcuna resistenza, è apparso teso, motivo che ha indotto i carabinieri a procedere a una verifica più approfondita sul veicolo. Da qui la scoperta, con il sequestro di 6 kg di cocaina e una ventina di munizioni di vario calibro 38 Special e 38 Winchester. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice, venerdì scorso, ha convalidato l'arresto e disposto alla detenzione in carcere. Torniamo a parlare di fine vita. Abbiamo depositato da tempo le 9.000 firme a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio assistito, ma dalla Regione nessuna risposta. È il promotore dell'iniziativa a denunciare. Sentiamo. Sono passati più di 100 giorni dal deposito delle oltre 9.000 firme certificate a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare che regolamenti il suicidio medicamente assistito. Ma la Regione, denuncia il promotore dell'iniziativa, non ha ancora calendarizzato la discussione in commissione. Tutto tace. Noi chiediamo che sia convocato una riunione con tutti i capogruppo in consiglio regionale affinché diano risposte certe circa le tempistiche con cui vogliono portare in discussione la proposta di legge in commissione quinta. Noi abbiamo scritto a tutti i capogruppo, abbiamo scritto per conoscenza anche al presidente Ciambetti, alla presidente della quinta commissione e adesso speriamo di ricevere una convocazione. Dopo questa richiesta la consigliera regionale Pentastellata è intervenuta. Questa mia richiesta al presidente è proprio quella di far sì che vi sia la calendarizzazione nella quinta commissione competente su questi temi. Avevo già sollecitato a luglio la presidente proprio per inserire all'interno dell'ordine del giorno questa iniziativa, questa PDLR di iniziativa popolare. La risposta è stata zero, ovvero non ho avuto ancora ad oggi alcuna risposta sul tema e quindi mi sono attivata con la presidenza per un sollecito. È una questione di buonsenso. Il Veneto è stato capofila nel deposito della legge. Siamo stati i primi. Il 21 dicembre, il primo febbraio abbiamo cominciato a raccogliere le firme. Si sono aggiunte altre 14 regioni d'Italia in cui la proposta è già stata depositata in consiglio regionale oppure si stanno già raccogliendo le firme. Altre regioni come il Trentino, la Valle d'Aosta, l'Umbria, il Molise stanno per cominciare la raccolta firme. Praticamente tutta Italia sta discutendo di questa proposta di legge che è uguale per tutte le regioni. Il Veneto può essere veramente un faro nella tutela dei diritti civili, dei diritti individuali. Speriamo che invece certi consiglieri regionali non vogliono farci essere un fanalino di coda in tutta Italia. Mentre proseguono i pellegrinaggi a Riese, mercoledì 18 ottobre, le spoglie di Giuseppe Sarto torneranno in Laguna, nella città di cui è stato patriarca prima di diventare Papa Pio X. Siamo andati alla Basilica della Salute per vedere come procedono i preparativi. Il giorno in cui stava partendo per il conclave, si era recato alla stazione di Venezia in gondola per poter appunto prendere il treno che l'avrebbe condotto a Roma, disse alla folla dei veneziani che con un passaparola si erano radunati sul piazzale della vecchia stazione, non la stazione attuale, la stazione vecchia di Venezia, disse quella famosa frase «Vivo morto, tornerò». Quasi una profezia che tra circa una settimana diventerà realtà. Le spoglie di Papa Pio X torneranno mercoledì 18 ottobre in Laguna, nella diocesi di cui è stato patriarca, con il nome di Giuseppe Sarto. In Basilica della Salute già fermano i preparativi per questa perignazio corporis, tra Venezia e Marghera, che si concluderà domenica 22 in terraferma. Don Marco Zani, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali del patriarcato, ricorda un aneddoto a conferma dell'intenso legame tra questo santo e la città di Venezia. Quando è stato eletto Papa, lui aveva scelto di reggere ad interim la comunità del seminario, cioè aveva fatto il sì che l'incarico di rettore del seminario fosse direttamente sotto la sua responsabilità, non aveva nominato in quel periodo un nuovo rettore e quindi seguiva direttamente lui i seminaristi. Quindi Pio X è stato rettore del seminario di Venezia e anche da Papa. Molti gli appuntamenti di preghiera che scandiranno questi giorni. Mercoledì 18 il corpo di San Pio X arriverà qui a Venezia. Alle ore 19 il patriarca Francesco presiderà la Santa Messa. Poi venerdì 20 il patriarca Francesco presiderà un'altra Santa Messa solenne per tutta la città di Venezia che si svolgerà sempre qui in Basilica della Salute alle ore 18. Sabato invece a Marghera vi saranno altri momenti di devozione e di preghiera curati dalle parrocchie della terraferma e in particolar modo dalla parrocchia di San Pio X. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro Meteo. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel Aroncade Treviso Benvenuti al Meteo. Condizioni stabili e caldo anomalo. L'anticiclone nordafricano mantiene il dominio sull'Italia. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 11 ottobre. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni. Avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sulla pianura fino all'alba varie nebbie in dissolvimento di mattina. Temperature senza variazioni di rilievo minime sui 12-17 gradi. Massime comprese tra 24 e 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Di primo mattino anche in questo caso saranno possibili delle velature. Poi cielo in prevalenza sereno un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 12 e 18 gradi. Massime sui 25-28 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove dominerà il sole come ci mostra la nostra grafica con cielo limpido e sgombro da nubi. Temperature minima intorno ai 14 gradi. Massime sui 28 all'incirca. Dal meteo è tutto. Vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel Aroncade Treviso